Iniziano le offerte del Black Friday, beh non proprio oggi è giovedì ed è il 21, nemmeno è giusta la settimana però iniziano le offerte del periodo di offerte che si dovrebbe chiamare Black Friday ma che fondamentalmente si estende da oggi 21 novembre fino al 2 dicembre, quindi supera anche il Cyber Monday Amazon, sei un po' aggressiva E visto che è mezzanotte, quei quattro gatti che mi stanno guardando potrebbero battere un colpo ditemi a che ora state guardando questo video, voglio vedere chi arriva al più profondo della notte Ad ogni modo le offerte che vedremo oggi non sono soltanto di Amazon, quindi preparatevi che è una bella carrellata anche se non ve la vendo troppo ragazzi, diciamo che rispetto ad altri eventi comunque siamo un po' sotto tono ma ci sono delle offerte che secondo me vale la pena di valutare e tra le cose che vale la pena valutare è sicuramente l'accesso ai nostri 5 canali Telegram ognuno con le proprie offerte selezionatissime e vi dico onestamente che abbiamo rimosso decine di migliaia di offerte che non erano proprio buone cose che sono alze e scendi, abbiamo preso e selezionato soltanto i pezzi che fossero effettivamente delle offerte dei ritorni a buoni prezzi e cose così ad ogni modo 5 canali Telegram dedicati al mondo della casa, dell'usato hardware, del nuovo hardware della tecnologia di tutti i giorni e agli errori di prezzo trovate il link per fare l'accesso a tutti quanti giù nella descrizione di questo video accompagnati anche dal nostro configuratore che vi permette di creare la vostra build in pochissimi click con semplicemente la necessità di dirci quello che volete fare con il PC tra gaming, editing e ufficio e il budget a vostra disposizione per chi voglia personalizzare poi ulteriormente in realtà potete anche selezionare il colore, il four factor quale preferite tra Intel, AMD o Nvidia e soprattutto altre opzioni come per esempio la capacità preferita della RAM, dell'SSD dissipatore a liquido o aria e anche cose come per esempio includere nel budget pasta termica e monitor l'abbiamo potenziato particolarmente e ne andiamo molto orgogliosi grazie ai vostri feedback, quindi spero che vi aiuti a scegliere una buona build durante questo Black Friday iniziamo da due prodotti che secondo me voleranno nelle prime ore di evento perché i prezzi sono veramente molto convincenti sto parlando di due monitor di MSI che ha deciso di essere incredibilmente aggressiva con i prezzi stanno andando in pari con quei brand cinesi un po' meno noti che onestamente di solito offrono dei prezzi particolarmente interessanti il primo è un monitor full HD, 180Hz, 24.5 pollici e sto parlando del G255 PFE2 un monitor che in questo momento trovate a 109,99 onestamente un prezzo veramente super competitivo rispetto all'offerta attuale del mercato potrebbe fare la gioia di tanti piccoli gamer in erba con configurazioni magari di fascia un pochettino più bassa ma anche qualcosina di più rispettabile onestamente prezzo molto competitivo che si accompagna con il fratello maggiore il G272 QPFE2 che è praticamente la stessa cosa ma cambia il formato con un 27 pollici e la risoluzione con il quad HD in questo caso il prezzo è di 169 euro veramente molto molto aggressivo e competitivo in questo caso nemmeno Corui riesce a rispondere al fuoco e devo dire che MSI ha deciso anche di sponsorizzare questo video per dirvi che queste non sono le solie offerte a loro disposizione troverete infatti componenti preassemblati e monitor nella loro selezione per il Black Friday di novembre in particolare poi vi segnalerò altre offerte veramente molto interessanti durante questo video ma a partire da queste due direi che si stanno difendendo veramente bene su una selezione delle offerte di MSI anche attiva la promozione Shoutout che vi permette di avere del credito Steam o in questo caso una webcam full HD in cambio di una recensione genuina del prodotto sul sito convenzionato ci sono alcuni prodotti che vedremo nel corso di questo video che partecipano alla cosa quindi ve li segnalo in caso e possiamo effettivamente proseguire con altri due monitor però QD OLED che metteranno in offerta durante l'evento il primo è il MAG341CQP un 34 pollici ultra wide quad HD da 175 Hz con pannello QD OLED delle ultime generazioni il prezzo torna poco sotto quello che è stato il suo minimo storico negli ultimi eventi con 789 euro e 99 centesimi se siete persone che stanno cercando di spremere il massimo dalla propria build e abbiano appunto una configurazione che possa accompagnare questa risoluzione abbastanza alta effettivamente otterrete veramente tanto io ve l'ho detto già in due video che i QD OLED sono una manata assurda riuscire a prenderli a dei prezzi più giusti diciamo più accessibili per la maggior parte delle persone sicuramente migliorerà tantissime impostazioni in Italia ed è una cosa che vi raccomando qualora abbiate il budget su questo monitor avete lo shout out da 30 dollari quindi una volta preso il monitor potete fargli due foto, una recensione e appunto riscattare il vostro credito Steam mediante il servizio di MSI sempre circa su questa linea di prezzo 773 euro troviamo un monitor però 16 noni sempre QD OLED e sto parlando del 271 QPX monitor veramente molto interessante in questo caso ovviamente come vi dicevo 1440p non ultra wide ma la cosa validissima è che ha un refresh rate di 360 Hz quindi se siete persone che stiano puntando al 1440p competitivo con build di fascia alta ricordatevi che i QD OLED hanno i migliori input lag e tempi di risposta del mercato nonché dei colori veramente pazzeschi quindi una combo molto interessante per chi sia disposto a spendere uno sconto valido se l'avevate già addocchiato anche su questo monitor è attiva la promozione shout out da 30 dollari recensione in cambio di credito Steam queste e altre componenti vi aspettano nella selezione del Black Friday di MSI che vi lascio giù in descrizione e noi continuiamo con il resto delle offerte e vediamo un pochettino che cosa possiamo fare lato case ovviamente abbiamo i due soliti campioni NZXT e Corsair dal lato di Corsair abbiamo il classico 4000D in offerta a circa 80 euro nella colorazione nera e bianca in questo caso io ve lo ripeto non è un prezzo pazzesco che non si ripeterà mai più è il classico prezzo da periodo di offerte per Corsair con questo case onestamente carino, supporti nella media non ci metti un 360 in top ma per la maggior parte dei gamer fino alla fascia media secondo me è particolarmente buono ovviamente ricordatevi che nella versione Airflow dovrete aggiungere voi le ventole per la parte frontale in particolare o se preferite anche per sostituire quella posteriore in ogni caso è un case che con l'estetica e l'offerta se la cava bene Corsair ne ha venduti milioni lo sanno bene classico pezzo e classico prezzo da Black Friday in alternativa NZXT che mi chiedete sempre in tanti il design minimal di questo mercato ce lo offre a poco di meno nel senso che l'offerta generale è di uno sconto di 10 euro sulla maggior parte dei modelli se già l'avevate d'occhiato semplicemente risparmatevi sto 8-10% e portateveli a casa in questo caso in particolare vi segnalo la cassette Flow che nella versione 2024 onestamente è diventato piuttosto interessante con supporti fino a 360 mm per il radiatore in top case che si difende bene in questo caso scende a 109,99 euro è un prezzo ok per la linea di NZXT e per quella dei case odierni visto che comunque stanno iniziando a costare particolarmente tanto qualora siate fan invece dei case acquario H6 Flow in questo caso non la versione RGB quindi le ventole che troverete incluse sono appunto tre ventole sulla parte laterale che non hanno RGB non sono neanche di qualità assurda ve lo dico personalmente prenderei un pacchetto di Thermalright da 4 per esempio per sostituirle comunque lo trovate a 99 euro se già l'avevate d'occhiato sapete cosa fare lato MSI invece estetica completamente diversa abbiamo l'MPG Velox 100R in questo caso un case che scende intorno ai 90 euro 90,20 per la precisione include tutte e quattro le ventole quindi se stavate cercando un prodotto completo ad un prezzo un po' più contenuto e vi piace l'estetica e il colore nero in generale questa è un'offerta che può fare per voi è un po' meno minimal di quelli appena citati ma secondo me è comunque un case che può piacere a molte persone vista la forte presenza di RGB sugli SSD ragazzi sapete che ovviamente è una delle componenti che solitamente va più in sconto nonostante negli ultimi eventi un pochettino latino ma questo qui è principalmente derivato dal fatto che ci siano un po' di crisi della dirama e di altri componenti nell'industria in generale SK Pynix 1TB 87 euro 86,99 per la precisione ve lo portate a casa ottimo SSD uno dei migliori sul mercato nel taglio da 1TB che può essere utile per la maggior parte delle persone che non abbiano necessità di grandi quantità di spazio in questo momento non so se il 2TB andrà in sconto ma se lo trovate sotto i 140-135 euro prendetelo assolutamente perché state portando via uno dei top di gamma di questo mercato e che onestamente soddisfa 360 gradi il 99% degli utenti che non siano dei produttivi di altissimo livello lato alimentatori devo essere onesto speravo ci fosse qualcosina di meglio nel senso che a meno che non escano in offerta dopo appunto che esce questo video ma in caso ve li segnalo nella descrizione di questo video non è che ci siano degli sconti pazzeschi Corsair con l'SF850L offre un ITX con ATX 3.0 e PCI 5.0 quindi supporto anche all'RTX40 col cavo 12 pin nativo a 129 euro è comunque un alimentatore SFX quindi il prezzo incrementa rispetto alla media degli ATX ed è comunque un 850 watt PCI 5.0 quindi di per sé ha dei canoni per cui possa costare così tanto in tempi normali sarebbe costato 99 euro ora costa tipo 160 euro fuori dagli eventi a 130 in questo momento è un buon prezzo diciamo che potrebbe essere meglio lato MSI piccoli sconti soltanto un 5-10% in base al prodotto sulla 850 GL in questo caso con PCI 5 uno dei loro top di gamma per questa linea e la versione invece A650 GL che scende a 74 euro onestamente questo è uno dei più invitanti ci potete gestire la maggior parte delle build prima delle top di gamma quindi se avete per esempio una 40-70 Super ce l'abbinate tranquillamente e ci può stare per molte molte configurazioni zona dei 50 euro poco sotto troviamo l'A550BN sempre di MSI un bronze e l'A650BN se avete delle build magari meno impegnative vi importa poco dell'efficienza o comunque non avete delle build di fascia altissima possono essere interessanti da inserire all'interno di svariate configurazioni mi viene in mente una build con un 5600X una 6600 o comunque anche qualcosina di più ad ogni modo sono delle piattaforme discrete quindi trovare la 50 euro ci può anche stare non sono degli sconti assurdi ve lo dico in questo caso sono semplicemente dei piccoli ribassi lato Asus vi segnalo due offerte invece particolarmente interessanti la prima il mio mouse il mio mouse preferito in assoluto sto parlando dell'Arpace Wireless Aim Lab Edition se giocate competitivo a giochi come FPS Black Ops Warzone qualsiasi cosa provatelo è incredibile è una precisione assurda grip fantastico va bene per qualsiasi tipo di impugnatura che abbiate pal grip claw grip quello che volete onestamente è un prodotto incredibile a 90 euro 89,99 ve lo portate a casa in promo non vi lamenterete mai più del vostro mouse è fantastico a seguire intorno agli 80 euro invece troviamo anche in promo il loro AP201 sapete che è uno dei miei case micro ATX preferiti in assoluto quindi ve lo strasegnalo e ve lo straconsiglio in particolare per chi sta cercando un case più piccolo che possa appunto accomodare grosse componenti e comunque tutte le possibilità di upgrade e installazione che vogliate il tutto con un design super minimal quindi molto molto interessante lato schede video l'unica offerta che onestamente mi sento di segnalarvi come veramente interessante è quella della Gigabyte Gaming OC RX 7800 XT che trovate a 490 euro e 99 centesimi è un prezzo non troppo più basso della media del mercato abituale ma se già stavate puntando questo tipo di schede potete recuperarvela con un piccolo sconto la custom va bene per quello che è il consumo della 7800 XT potete prenderla senza problemi uscendo da Amazon invece vi segnalo un altro pochettino di promozioni che onestamente ritengo interessanti se siete alla ricerca di periferiche come tastiere custom e cose del genere il primo tra tutti è Acogear che semplicemente sconterà una selezione di tastiere che non sono riusciti ad anticiparmi switch e keycaps fino al 20% quindi se già avevate in mente di farvi una tastiera meccanica è assolutamente il momento migliore ci sono anche degli sconti extra nei loro outlet deals quelli però valgono tutto l'anno andate a dare un'occhiata se siete appassionati di tastiere meccaniche o se state iniziando può essere un ottimo modo per risparmiare qualcosina per fare la vostra prima tastiera molto molto bene e parlando di tastiere meccaniche mi sembra ingiusto non citare il mio caro amico Core sul suo Core.store sta facendo degli sconti fino al 24 novembre quindi ritengo giusto citarlo un pochino allora sulla sezione degli switch trovate sconti del 10% se volete recuperare qualcosa un pochettino più di nicchia ha una selezione veramente invitante stabilizzatori fino al 15% Desmat fino al 40% quindi se volete recuperare un tappetino dei suoi potete avere un bello sconto e infine vi segnalo anche una cosa interessante tutti i cavi in Tecflex e Paracord che sono i suoi cavalli di battaglia da quando ho aperto lo store sono in sconto del 30% tranne alcuni modelli la maggior parte lo trovate in sconto ci sono anche altri sconti onestamente il link di Core lo trovate giù in descrizione io non ci guadagno niente voglio soltanto aiutare un amico sempre parlando di cose su cui non guadagno niente Allo Store sta facendo delle promo interessanti sull'argomento del sim racing in questo caso con kit completi o singole parti che potete comprare per quanto riguarda l'universo di Mosa Racing che da quanto ho visto è uno dei migliori produttori per questo ambito onestamente molto invitante che un negozio italiano abbia delle promo così forti partono dalla mezzanotte di oggi quindi di per sé sono già attive vi lascio il link giù in descrizione se siete appassionati di sim racing potete andare a recuperare qualcosina da loro ancora non so i prezzi ma onestamente mi sembra giusto segnalare quando anche un negozio italiano fa qualcosa di buono per il mercato ovviamente non c'è solo questo sul loro sito troverete anche monitor preassemblati, componenti e tanto altro in offerta per il periodo del Black Friday ripeto su Allo non ci guadagno niente sto solo dicendo a voi quali possono essere delle offerte interessanti per il Black Friday io guadagno da Amazon ultima parte vi segnalo che alcune delle offerte di Corsair sul loro web store sono più interessanti rispetto a quelle che trovate su Amazon riescono ad avere giustamente una percentuale di sconto maggiore ma in realtà la selezione di Elgato e quella della loro linea per la dissipazione al liquido custom sono molto molto interessanti anche su Amazon quindi di per sé più che altro per l'ambito della dissipazione all in one gli aglio classici potete guardare il web store di Corsair mentre per Hardline, Elgato e i case Amazon rimane la soluzione migliore vedete un pochettino voi in base alle vostre possibilità e volontà volontà come quella che mi fa dire che questo video è arrivato alla conclusione like, commenti e iscrizioni sono sempre graditissimi perché questi video vanno di solito male fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti che cosa state aspettando dal Black Friday e noi ci vediamo domani alle 13 con la build del Black Friday o comunque quello che vi consiglio di comprare in questo 2024 voi se state su Morten Tech Sousa